Edizione numero 5 per il Forum Nazionale dei Mediatori che si è svolto nell'Aula Magna dell'Unical. Tre le sessioni attraverso la quale è passata la discussione. La prima dedicata alla diffusione della cultura del dialogo e della conciliazione tra i giovani e tra i cittadini. La seconda denominata gara nella quale è stata premiata una scuola. Ed infine la terza che ha affrontato il tema della mediazione e conciliazione. Sono state diverse le scuole che hanno partecipato all'iniziativa. Il dialogo è lo strumento di diffusione principe della diffusione della mediazione. Mediazione in ogni settore, familiare, sociale, penale, civile e commerciale. Oggi inoltre abbiamo la fortuna di avere al tavolo dei relatori anche illustri docenti Unical, illustri professionisti della provincia di Cosenza che ci parleranno di mediazione, di conciliazione, toccando vari aspetti dell'istituto. La necessità dunque di diffusione della cultura della mediazione è come strumento a garanzia anche della pace tra i popoli. Il problema primario di questo fallimento della società attuale è un problema culturale, è un problema di mancanza di una conoscenza reale delle cose. Non si ha più una vera capacità di trasmettere i messaggi importanti come i valori cattolici, che sono racchiusi nella cultura della mediazione, nella cultura del dialogo, nella cultura della pace.